Non è mai facile parlare di una sconfitta maturata come quella di ieri, diciamo che ci sono veramente tanti punti di cui andare a parlare, noi ci limiteremo a parlare di quello che è successo in campo, perché dell'arbitraggio e di tutto il resto ne parleremo in live mercoledì sera su Twitch, quindi domani sera, quindi qualora lo vogliate ci trovate. Un saluto a tutti gli amici del corner Sampdoriano, prima di iniziare con l'analisi di Empoli 1 Sampdoria 0, come al solito vi invitiamo a iscrivervi al canale, lasciare un pollicione in su e iscrivervi al nostro canale Twitch, davvero state arrivando in tantissimi, corner-sampdoriano anche su Instagram. Detto questo, possiamo partire con l'analisi di una partita che ci ha lasciati sicuramente con la mare in bocca. Sapevamo che comunque non era una partita facile, perché l'Empoli è una squadra magari non troppo rognosa, ma comunque da un certo livello tecnico, specialmente vedendo anche la formazione con cui è scesa inizialmente ieri la Sampdoriano, inizialmente, perché nell'ultima mezz'ora secondo me c'era abbastanza qualità, messa a confronto l'Edo Rosia facevano abbastanza paura. È un Empoli che sfrutta tantissimi terzini, specialmente Parisi, che è un fenomeno, ne sentiremo parlare veramente tanto di questo giocatore che ha gamba, che ha davvero tantissime qualità, e ieri ha fatto un po' quello che voleva, ha condizionato molto la partita di Medileris, che ha speso un cartellino giallo nei primi minuti e inevitabilmente ha dovuto gestire in maniera diversa il corso della partita. Un Medileris che ieri, come al solito, ha giocato sull'out di destra. A sinistra abbiamo trovato Ogello, che è stato servito secondo me poco, siamo sempre andati sempre più verso l'out di destra rispetto a quello di sinistra, e questo secondo me ci ha un pochino penalizzati, perché secondo me potevi creare più problemi sulla fascia di Ogello, ma andiamo a vedere le cose con calma, perché nel primo tempo c'è una Samp che ha un'occasione colossale, con Vieira che non voglio più vedere in campo, peggiore in assoluto per quello, perché comunque è un gol che devi fare, devi fare. È una costruzione dal basso sbagliata, tu o ti rimporta o servi come si deve l'Ammers, niente, non ha fatto nulla di tutto ciò, quindi Vieira deve essere mandato via, via, perché è un giocatore inutile adesso alla casa della Sampdoria. Stava crescendo, ma con ieri abbiamo avuto la conferma che è un giocatore inadatto. Quello errore, la gestione totale della partita, perché se nelle ultime due partite contro Napoli e Sassuolo abbiamo visto un Vieira in crescita, un Vieira che comunque riusciva ad unire bene difesa e attacco, nulla di tutto ciò ieri, nulla di tutto ciò. Doveva essere il filtro, doveva essere colui che faceva passare bene i palloni, non ha fatto nulla, anzi ne ha persi moltissimi. Quindi Vieira bocciatissimo ed era l'ultima possibilità per me. Si potrebbe parlare veramente di tanto dell'approccio dell'Empoli, che è una squadra che comunque sa palleggiare abbastanza bene, come ho detto prima, ha dei valori tecnici abbastanza alti, quindi sotto il punto di vista del palleggio posso capire la tendenza della Sampdoria a un attimino aspettare. Però ieri avrei voluto vedere la Sampdoria un po' più aggressiva. Una Sampdoria che, come nelle ultime due partite, doveva andare ad aggredire un po' più alta la squadra dell'Empoli. Quindi nulla di tutto ciò, però non lo so. I Tostani hanno avuto veramente molta, molta, molta facilità nell'uscire dalla pressione. Caputo penso sia inutile parlare di quello che è, perché ha giocato con gli occhi proprio della tigre. Proprio brutto. Atteggiamento orribile da parte di Caputo. Si è anche preso diverse volte con Djuric, con Sabiri, quindi malissimo. Primo tempo, quindi, nel complesso abbiamo visto la Sampdoria brutta, ma non bruttissima. Anche perché abbiamo colpito una traversa, come di Leris. Anche quello è un gol da fare. Dico brutta perché, appunto, devi sfruttare le poche occasioni che hai. Quella di Viera, quella di Leris, nel primo tempo sto parlando. E poi, nel secondo tempo, un'Empoli che trova un gol evitabilissimo. Oddio doveva solamente rimanere in porta. È voluto uscire, non si sa perché, non si sa come. Salta e Ubeiche, un giocatore mai sentito, ovviamente contro di noi segna. Il primo gol in Serie A, come di Lorenzo, se non ricordo male, un paio di anni fa. Ce l'abbiamo pensato sempre noi. Quindi, se sei giovane e vuoi segnare il primo gol, gioca contro la Sampdoria. Poi, durante il corso del secondo tempo, abbiamo visto una Samp che ha fatto una fatica enorme a creare occasioni. Una Samp che arrivava, arrivava, arrivava su altri quarti, tornava indietro. Sempre questo benedetto pallone indietro. C'è stata una difficoltà nell'impostare assurda. Ed evidenza, appunto, i limiti che questa squadra ha. Poi, Ave Maria piena di grazia, Sabiri e Wings. Anche Zanoli è entrato benissimo. Abbiamo iniziato a vedere qualcosina. E meno male, aggiungerei. E meno male, perché se no ieri sarebbe stata veramente una battita da cancellare. Abbiamo trovato nuovi spunti con questi due giocatori. Forse si è passati a un 4-3-1-2, non si sa. Però, ho apprezzato la scelta di Stankovic di mantenere in campo sia Lambers che Gabbiadini. Diuric, secondo me, era da togliere. Era da togliere il primavera. Però, anche, secondo me, Stankovic deve lavorare ancora un pochino sotto questo punto di vista. E deve preparare un po' meglio queste partite. Dicevamo, nella seconda parte, il secondo tempo, scusate il gioco di parole. Però, abbiamo visto comunque, un po' di qualità, un Wings che ha preso le mani. Cioè, ha fatto quello che voleva. Si è preso in mano alla squadra e ha detto, andiamo. Benissimo, Wings. Benissimo. Il poco che ho visto, benissimo. Quindi, servono giocatori come lui. Serve Cattiveria, serve Grinta. E questa è una partita che, se avessi giocato anche con Rincon, sarebbe stata tutt'altra. Detto questo, non so se Rincon può giocare con l'Udinese. Non so quanto è stata data la qualifica, se è una o di due. Spero ovviamente di una. Perché giocare con l'Udinese, in casa, con Rincon, inizia già a cambiare un pochino la cosa. Deve cambiare la testa. Deve cambiare ancora un po' l'atteggiamento. È una sample che deve ancora un po' maturare. Nel secondo tempo, poi appunto con questi nuovi cambi abbiamo avuto altre occasioni. Vicario è un portiere meraviglioso. Le abbiamo augurato le peggiori cose, ma... Chapeau per Guilhermo Vicario. Perché davvero ieri ha preso tutto. Tutto. È assurdo. Quindi bisogna solamente incazzarsi con i nostri. Con Djuricic che due volte tira due ciofeche. Con Gabbiadini che dal limite non riesce a fare gol. Davvero, ieri hai avuto le palle gol. Però se non le sfrutti davvero ti meriti i nove punti che hai. Lasciamo perdere il discorso del gol annullato. Ne parliamo e ci scanniamo su Twitch. Perché se dovesse iniziare adesso il video durerebbe 20 minuti. Quindi non ne voglio parlare di quello. All'ultimo minuto, questa fisica, gol annullato, finisce la partita. Tiriamo le somme. Un Eboli che ha vinto proprio, se andiamo a vedere, facendo il minimo indispensabile. È una squadra che a me non è piaciuta nel complesso. Però, come dicevamo prima, ha dei valori tecnici alti rispetto a noi. Neanche troppo, però ci sono giocatori veramente interessanti. Come Val Danzi, come Parisi. Davvero, abbiamo visto qualcuno che di calcio ne sa in un poco. Per noi ci sono diversi bocciati. Verre, un giocatore da cui mi aspettavo tantissimo. Djuricic sta calando, fisicamente, soprattutto. Non mi è piaciuto ancora l'Amers, però nel secondo tempo è cresciuto molto. Nel primo tempo non mi è piaciuto, nel secondo sì. Quindi anche l'Amers è in crescita. Speriamo bene, speriamo bene. Molto meglio di caputo, comunque. Anche lui intichieri due o tre volte in ritardo, però nel complesso non mi sento di dargli l'insufficienza. Benissimo Zanoli, è entrato con la testa giusta. Vogliamo gente che entri come lui, come Wings. Sabiri, un po' macchinoso. Si vede che comunque non è ancora al top. Però è entrato, ha scannato quel siruro assurdo. Che dire poi, Gabbiadini, abbiamo detto anche prima, anche lui sta avendo qualche difficoltà, forse. Quella punizione non la deve battere bene, nel primo tempo la deve battere Gabbiadini. Importa. Poi, ciò che succede, succede. Detto questo, serve davvero fare punti. Serve farne almeno sei contro Udinese e Monza. Le prossime due, se non le vinci, è merda. Scusate la parola, ma è merda. Detto questo, domani, che è mercoledì sera, in live su Twitch per parlare di quello che sta succedendo a livello societario, perché sono uscite dichiarazioni da parte di Ferrero, e a livello arbitrale. Domani ci scanniamo con calma. Quindi, 21 su Twitch, mi raccomando, pollicione su, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Corner, trattino, basso, sanzionano su Instagram. Da Mattia è tutto, da Corner è tutto, sempre forza santo.